Che be- cioè guardate il balletto Mi pare che un orso insicuro potrebbe fare un balletto del genere Così convinto Cioè guardalo Guardalo com'è contento Guardalo è felicissimo È troppo felice quando balla Perché puoi fare l'idiota Di solito è serissimo Mamma mia il pool della vita mi hanno dato Thank you E puoi fare Oh mate 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 Ma va pambrodo Cacchio di Fitz Guardate Dritto per la mia strada Così Potremmo farcelo Io lo comincio intanto Bello Bella la ulti di Jin Buono buono No non ci credo Dov'è? Dov'è? È morto Ma perché? Levelo 9 Minchia Ottimo 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 Siamo messi benissimo Eh noi Non posso non dire quello che vogliono Ma siamo messi davvero da Dio ad ora 5 a 5 Io diventerò estremamente tankoso Mal 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 Oh, cazzo Quanto cazzo di... Ah, eh, cazzo Ha 180 di AD No, peccato, se lo prendeva sarebbe stato Wurtissimo Eh, peccato, unlucky Però ci prendiamo anche la torre mid lane, il che mi va benissimo Mi va bene così No, devo prendere un po' di Magic Resist, fermi, fermi Allora, faccio così E mi faccio una Giant Dov'è la Giant? Eccola qua Perfetto, perché ho comunque già un po' di armor, effettivamente Quindi fare così mi va benissimo Peccato, peccato davvero Pensavo di sarei riuscito a uccidere anche Kha'Zix Avrei dovuto aspettare a usare il Morse, secondo me Che cazzo sta facendo a sto Darius? Ma vaffanculo L'ho preso, l'ho preso Se veniva verso di me e Shen invece che veniva a caso Avremmo tranquillamente l'ho ucciso senza fargli morire Perfetto Bravissimi, good job boys Bravissimi Guardate cosa gli stiamo facendo Perfetto così Lol Quel Darius Se la facciamo? Secondo me è rischioso, però possiamo provarci Ragazzi dovete continuare ad attaccarlo Il ne è Eh, sono morto io Correte stronzi Correte Uh, bravissima Gianna che l'hai iscrivato No, perché sei così avanti? Oh mio, oh, oh mio Cosa hanno appena fatto? Bravissimi, very good job Bravissimi Intanto Shen si è preso la torre top lane La cosa è ottima, va benissimo così Fiu, star fire Mamma mia, sta sottovalutando il danno di Aurelion Sol tantissimo Guarda Aurelion quanti danni fa Ma non ha senso E arriva Shen a pulire la situazione Bravissimo Shen Mi moglie è il mio livello 13 Amico mio, è l'ora di andarsene Mamma mia, stiamo Double kill Magnifico 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 così Magnifico così Stiamo andando dritti Buono, buono, buono Sta andando proprio bene oggi Oggi sono felice Oggi sono felice E si vede Vinco Ma vaffanculo Vieni qua No Abbiamo ucciso Fitz Che era la cosa più preoccupante per noi Io dico che è stato worth Poi Solo il mondo saprà effettivamente quanto è stato worth Cioè nessuno Allora, allora, allora Non ho scuse No excuses No excuses Oh baby Cos'era quel flashdown? Mamma mia Recteroni di casa Modena, signore e signori E questo Darius Sta per tirare una testata di quelle Che non ce le ricorderà per tutta la vita Aurelion Sol Invece no, JK Grazie Gian Oh oh Potrei essere un inquelino morto A posto così Io sono a posto così Tiriamo giù questo Tiriamo giù tutto Forza, forza Non so cosa stiamo facendo Ah, vogliono uccidere Twitch Lol Che carini Buono così, buono così Buono così Ragazzi Oggi era una bella giornata E lo sarà ancora Le meme GGVP Sono una persona brutta XD Magnifico Un 아래 Un Whip Un' 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 Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah